La lunga e stenuante stagione della Lega Pro sta per finire, domani al Rigamonti Ceppi l'ultimissimo atto dei play-off. La Serie B vedrà protagonista una compagine Lombarda, il Lecco, che potrebbe raggiungere i Bresciani della Feralpi Salò, o una Pugliese, il Foggia, che sogna il derbissimo contro il Baris, quella che ha sferato pochissimi giorni fa la massima serie. Si riparte dall'1 a 2 degli Azzurri, maturato allo Zaccheria. I ragazzi dei Foschi, supportati da 5.000 tifosi, vogliono coronare una stagione al limite della perfezione. Dall'altro canto i satanelli di Dele Rossi saranno scortati da 600 tifosi, che hanno preso d'assalto i botteghini per assistere alla partita. Il cammino nella post-season tra Lecco e Foggia ha vissuto binari paralleli. Pareggio alla prima contro Ancona per i Lecchesi, pareggio contro il Potenza per i Foggiani. Da lì in poi, in trasferta, impeccabile il proseguo di stagione di Lepo e le compagni, con le vittorie di Pordenuno e Cesena, e l'ultimo proprio Foggia. Mentre le imprese di Crotone e Pescara nell'extra time sono un segno tangibile per i rossoneri, anche se nella prima trasferta resta ancora la mare in bocca per Peterman e compagni, il K.O. di Cerignola. Saranno 90 minuti ricchi di suspense, in ballo c'è la cadetteria. Lecco vuole rivivere questo momento dal lontano 1972, quando la squadra all'epoca era diretta da Angelo Longoni. Il Foggia invece manca dalla Serie B dal campionato 2018-2019.